Due gli equipaggi che la Borgata delle Grazie porterà al palio e alle prepalio che ormai stanno per iniziare, quello junior nel segno anche della continuità, quello senior e una cosa che vi caratterizza come borgata è proprio la volontà sempre di portare proprio gente del paese a sedere sulle vostre barche. Sì, intanto la soddisfazione quest'anno di ingranare una marcia in più rispetto alla passata stagione e ovviamente ancora di più rispetto a due anni fa quando non è stata disputata la stagione per intero. Poi sì, assolutamente come dicevi la volontà di cercare di proporre sempre ai ragazzi del paese in segno di continuità sportiva ma anche a livello di tradizione. Insomma, di unione col mare e con le nostre tradizioni di borgo di mare. Due equipaggi, l'equipaggio junior che è sostanzialmente in continuità con quello dell'ultima edizione e l'equipaggio senior invece che è cambiato ma c'è il ritorno di qualche ragazzo che era già stato in borgata e comunque che ha sempre in qualche modo vissuto, anche se da lontano, comunque ha vissuto la borgata delle grazie quindi diciamo anche una sorta di unione nel tempo. Quanto ha pesato proprio la pandemia che inevitabilmente ha avuto delle conseguenze anche sul palio, un palio non fatto, una stagione in cui invece non ci sono state le pre-palio e quest'anno finalmente quantomeno un tentativo di ritorno alla normalità. Sì, 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 un tentativo. La speranza chiaramente è che tutto possa procedere nel migliore dei modi. Ha pesato parecchio, ha pesato parecchio. Credo che le borgate comunque in generale vivano una sorta di, chi più chi meno, vivano una sorta di difficoltà in questa ripresa. Il fattore positivo che posso dire è che la percezione che ho è che ci sia la volontà di ritornare a questa famigerata normalità. Ha pesato dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista sportivo perché comunque chiaramente uno stop così protratto nel tempo in condizioni particolari chiaramente non ha facilitato la ripresa, non sta facilitando la ripresa. però mi sembra che la volontà sia importante da parte delle borgate, del comitato, insomma di tutto il movimento.